Benvenuti a Giovanni Orlacchio e Andrea Di Meglio, rispettivamente il coordinatore di questo circolo multicomunale isolano di azione, Andrea Di Meglio immagino faccia parte del direttivo del partito di calenda a Nischia. Proviamo un po' a comprendere qual è la dimensione che vi ha spinto prima magari di affrontare qualche problema più politico sia nazionale che locale ma per capire anche la vostra scelta e comincere proprio da Giovanni, la domanda che ci siamo fatti un po' fuori prima mentre parlavamo tu hai chiesto perché azione e tu mi hai risposto perché no, allora te la rifaccio, perché azione? E rispondo perché no azione. Io come Andrea Pugliante pensiamo che azione risponde all'esigenza storica, la traietà militaria decresce in tutti i fattori, fanità, distorsione, salari e questo è legato a questo bipartitismo, questo falso distinto, distinto retorico tra il destra e il sinistra, fascisti, comunisti, cose dell'altro secolo che hanno portato alla militarizzazione del vettoraggio e alla disinteresse dell'azione pubblica, a fare le cose come si deve e a pensare a portare a terra gli risultati immettivi. Rispetto ai nostri paesi insibili come Germania, Francia, i salari sono fermi da 30 anni, la sanità è sempre più debole e la scuola è fragile ma tutti i ragazzi che escono dal ciclo secondario di scuola superiore escono in competenze fragili. Il legame tra imprese scuola superiore e università è fragile, quindi sono tanti problemi che vanno affrontati con un partito che mette al centro una persona e che abbia un'idea di società, di politica che debba investire sul welfare che deve essere molto forte, bisogna favorire la mobilità sociale, ma al suo tempo bisogna favorire l'iniziativa economica privata. L'impresa non va demonizzata, l'impresa va incentivata perché tramite un'impresa che ha costo di lavoro si crea un prodotto e questo prodotto poi va ridistribuito in tutta la comunità. Quindi perché non azione? Azione è partito vero dal punto di vista di attenzione ai giovani e migliore, che rendeci spesso che le nazioni giovani non sono messe in un acquario come ad esempio altri partiti fanno con sezioni in giovani e in azione i giovani fanno politica. Ad esempio sono molto contento di essere riuscito insieme all'aiuto di Andrea ed altri di ottenere i tam della coordinazione con Giuseppe Rannini, il nostro MEC e il sindaco di Cazzo Mincio, insieme anche al segretario regionale Giuseppe Sommese e provinciale Marcello Tortora, a ottenere questa nomina coordinatore di attenzione sull'isola di Ischia ed è l'inizio di un percorso che poi porterà nella seconda metà di questo anno a un congresso per dare ad azioni insieme a una veste giuridica e organizzativa stabile. Andrea, un gruppo di azione che parte da due volti giovani, ci vuole spiegare un po' come azione comincia a muovere i primi passi sull'isola di Ischia. Siete parecchi, mi sembra di aver capito, un tesseramento nato spontaneo da quella che è l'azione politica di comunicazione, di calenda e di tutti gli altri protagonisti della politica nazionale. Raccontaci un po' sia qual è la tua esperienza, magari poi dopo Giovanni ci racconterà la sua, quella che è il gruppo che oggi vi caratterizza. Beh sì, il pello in effetti di questa esperienza nazionale è anche coennata, difatti è nato semplicemente come un caffè al bar, casco contrario, e quindi come convergenza di idee, di pensieri e non di ideali. Ecco, questo forse è significativo sottolinearlo. Non ci siamo incontrati perché appoggiavamo un'idea, un partito nello specifico, quanto piuttosto inizialmente perché condividevamo una cultura. Cultura di convergenza, di unità e questo vale per azione tanto a livello nazionale nella dialettica che sviluppano, tanto a livello locale dove siamo sei comuni, dove siamo appunto anche due stessi di differenti comuni, diverse entità, ma pur comunque con una comune intenzione delle, insomma, delle comuni stanze che vogliamo portare. Ogni sicando, quindi quello che è il panorama politico e di azione fondato in una veste pragmatica, puntata a fare le cose, in questo ci siamo ritrovati banalmente. Ed è stato in effetti molto bello, anche come è nato. Attualmente questa veste di pluralismo si riscontra anche tra gli stessi desterati, ci sono dei consiglieri comunali, se non ero c'è anche un assessore del Consiglio Ischia di Casanicciola. Siamo giovani, meno giovani, ma comunque ecco c'è una grande eterogenicità, tuttavia sempre orientata sui mesi criteri che sono quelli degli impegni dell'azione. Esatto, prima nella domanda che ci hai fatto hai chiesto, hai utilizzato la definizione partito di calenda. In realtà non è il partito di calenda, il calenda è il segretario di un partito che ha una dichiarazione di società, che è una classe dirigente, che cresce sempre di più, e spero è questa classe dirigente che escerà anche qui a Ischia. Infatti ci uogliamo a tutti gli attuali amministratori locali, consiglieri, assessori, sindaci che sono interessati, che possono trovare in contatto con noi, aprire i nostri canali social, possono scriverci all'email, isola di schienazione, cacciolaggmail.com, senza apostrofo. Sì, l'azione è qualcosa di più, un partito personale, leaderistico, come sono stati negli ultimi 30 anni, molti dei partiti dell'Oscina politica. E questa aspirazione di società è comune, ci ha avvicinato in maniera spontanea, si sta, è mio amore, viene organizzata sul territorio. Le istanze che portano avanti azione sono quelle che caratterizzano un po' l'azione, non come partito, verso il centro di questo grande paese diviso a metà, dove una sinistra invoca il pericolo fascismo da un lato, dove dall'altro lato invece non si riesce ancora a capire se sono tutti pronti ad essere dalla caratura giusta di poter amministrare un paese. E voi puntate al centro, il famoso centro, quello che negli anni prima della grande sciacura di mani pulite era la grande democrazia cristiana. C'è spazio al centro? L'azione non ha ambizioni come altri partiti dalla stessa area di fare l'ago della bilancia. Non è il centrino, non è il centro che si pone adesso a seconda delle esigenze. L'azione è nata, sebbene noi siamo ancora agli inizi, con un'ambizione maggioritaria, l'ambizione di diventare centrale, non parte vicenda. È corretto in qualche modo il richiamo della Repubblica, quel partito che ha governato il nostro paese per più di 40 anni, però si tratta di un periodo storico esterente. Assolutamente. La diversa, che è interna alla nazione, perché in azione ci sono popolari, quindi la nuovezza cristiana, ci sono riformistici, ci sono liberali. Tutti quanti messi insieme dall'idea di essere un partito della comunità calenda, della Repubblica, della Costituzione, dei primi 12 articoli, quindi dell'articolo delle comandole della Costituzione, della mobilità sociale, la rimozione degli ostacoli che permette a tutti lo sviluppo della personalità, scuola salari e sanità, e poi fare un'iniziativa privata. Quindi è sempre finalizzata la funzione sociale. Sì, credo inoltre che ci sia spazio al centro anche perché il centro come posizione forse che anche c'è. Noi siamo abituati culturalmente a pensare al centro come mediazione tra istanze opposte. invece quello che vorremmo sostenere è un centro come posizione, come posizione votata al pragmatismo, a ciò che c'è di concreto e necessario da fare, ecco. Sì, e poi questo elemento centrale si detiene anche nelle posizioni sulle riforme costituzionali, c'è questa centralità, questa naturalità che paghiamo schiavo. Gli italiani siamo modedati, siamo in qualche modo pronti a dialogare, non ci sono agli estremi in Italia. Questo quando la demanza cristiana è una repubblica governata con tranquillità. Il ruolo del Parlamento è molto importante. Purtroppo ora possiamo affermare che il Parlamento, che dovrebbe essere espressione nel popolo, è l'uomo meno rappresentativo della nostra nazione. E questo è qualcosa che va affrontato con le riforme costituzionali, va affrontato con leggi che possono in qualche modo inserire la democrazia intorno ai partiti. Ora azione sta tentando di organizzarsi in una spontanea con norme automesse in maniera democratica, che è da favorire la salita. Le leggi del Paese sono un'antiligenza più centrale, ma in molti partiti le persone che vengono candidate, le persone che vengono poste in Parlamento sono quelle più vicine al capo partito. Questa è una cosa che va a stimolare i populismi, gli estremismi, i sovranismi. Tutto ciò che non fa bene al nostro Paese, non è l'orientamento, mi porta a una decrescia. Mi faccio una domanda per mettere un po' i piedi su quella che è la realtà locale. Diciamo forse più due domande. Uno vi chiedo a voi di illustrare il ruolo di Giuseppe Brandino in questa nascita del partito a Dischia. Giuseppe Brandino è sicuramente uno dei politici che ha raggiunto più successo rispetto a tutti quanti gli altri. È un politico dal peso non indifferente, divide, unisce quelli che gli stanno vicino e separa quelli che gli stanno lontano. Uno, il ruolo di Giuseppe Brandino. Due, abbiamo parlato di azione. Avete in qualche modo anche ben illustrato la posizione del partito rispetto ai temi nazionali. Però vi volevo portare un attimo a Dischia e quello che azione può realizzare a Dischia su quelli che sono i nostri problemi. Aggiungo per esempio la rappresentatività istituzionale del territorio che è persa rispetto a quella che è l'ente regione, soprattutto di quello più vicino, oltre ai comuni. Siamo completamente alla deriva nel mar Tirreno, all'ontananza di Napoli, che non sappiamo dove stiamo andando. E quindi qual è anche la vostra proposta locale? Ma lo dico soltanto perché azione Ischia ovviamente si deve occupare di quelli che sono le tematiche del territorio, non per forza. Però il focus ovviamente va sicuramente proiettato su quello che è la nostra isola. Don Romero, allora anzitutto è isola di Ischia. Sì, sì. Le divisioni amministrative sono cose da rispettare, ma quando si parla di politica, si pensa di politica sull'isola, non si può che avere la missione unitaria. Interessi, anzitutto è la geografia che ci tende a niente. E poi ci sono interessi strategici, economici, di promozione che non possono essere trattati se non unitamente. Quindi dal punto di vista partitico saremo, fin dalla nascita, una organizzazione transcomunale. Per quanto riguarda il rapporto con Giosi, Giosi è un punto di riferimento. È il nostro europarlamentare, nonché il sindaco di Casaneccio, nonché membro del Comitato Nazionale di Azione. Il nostro gruppo è in maniera spontanea, come dicevo prima. Molti ragazzi sono tesserati ad Azione perché Ischia ottene un effetto per questo partito. Giosi è stato per noi un supporto costante nel dialogo, nel pari step che abbiamo seguito per ottenere questa nomina. Nel mio caso mi rappresento il gruppo di coordinatore transcomunale, ma il mio ammettio è stato quello di portare i tesserati di azione, di cui uno è portante, Giosi per l'annino, al congresso, nella seconda parte dell'anno, per democraticamente eleggere le persone che si occuperanno dell'amministrazione del partito su territori. Quindi è un rapporto con quello con Giosi di coordinamento, di supporto, ma c'è un'autonomia reciproca. Per quanto riguarda il partito ad Ischia, mi ricollego a quello che ho detto prima. Soprattutto partiremo da questa necessità di ragionare da una rispettiva unità. Quali sono gli interessi stati nel scendere? Una sanità che sia più forte e adeguata ai 60.000 abitanti del nostro territorio, anche tutti i turisti che ci sono durante il periodo estivo. Investimenti sulla scuola che ci sono stati, ma non sono abbastanza. Investimenti per salvaguardare il nostro territorio del rischio di un geologico. Investimenti per promuovere di prendere Ischia all'estero. e poi tra le prime attività che faremo sarà un ciclo di eventi di mista dell'elezione europea. Non è casuale che... Non è casuale, sì. Questo ciclo di eventi sull'Europa vuole far sì che Ischia diventi un posto non solo di benessere, non solo di ferme, ma anche di cultura e di dialogo. E il partire dall'Europa, non sono detto più volte, vuole essere un segnale. Cioè noi dobbiamo costruire un'isola di Ischia che sia europea. Questo ne significa tante cose. E poi sono tantissime da poter uscire le prospettive programmatiche nei progetti da poter comprare. Assolutamente, ma il fondamento resta l'unità. Il primo problema è che siamo sei comuni. Questo è il primo problema da cui partire. Sei amministrazioni, sei entità. Quindi innanzitutto è un problema culturale e quindi amministrativo e funzionale. Noi dobbiamo unire, unire le amministrazioni, unire le associazioni di categoria, unire le intenzioni. Il fatto è miracile, senz'altro, che si sviluppi un piano turistico solo per un comune, il comune di Ischia. Noi includendo, non volutamente, ovviamente, non trovando la condivisione in questa programmazione di altre cinque entità amministrative, è già di per sé una denuncia gravissima della divisione programmatica e organizzativa che vive il nostro territorio. Quindi esistono queste istanze critiche, ancora più vissute tra i giovani, di divisione che vanno su parte. E un altro aspetto positivo, senz'altro, che è verso già appunto dalle modalità per cui è nato questo gruppo, è lo spazio che è stato dato ai giovani. Giosi Garandino è sicuramente un politico da una certa esperienza ben inserito, senz'altro, ma ci ha lasciato anche tanto spazio, vero sostegno, totalmente disinteressato, alla fine ci ha lasciato praticamente operare in chi sta appoggiandoci su questo che è tutto. Il che, insomma, è interessante e bello anche per i giovani che vorranno interessarsi di questa realtà. Per quanto concerne, invece, la sua posizione peculiare da politico, senz'altro, è il più proiettato per quanto concerne il territorio in ambito politico ed è una posa buona perché ci aiuta a nutrire una prospettiva di un'isola e della prospettiva che dovrebbe nutrire questa isola, di un'isola internazionale che parte dal territorio campano e arriva in Europa e arriva nel mondo. Quindi, insomma, se riusciremo appunto in questa organizzazione gli eventi e queste attività per l'Europa e vi vorremmo dare questo segnale, Istia può essere palcoscenico centrale all'interno della scena politica italiana ed europea. Sì, poi, penso a come ci stiamo rivolgendo alla telecamera e a voi si nota un certo pragmatismo misto a una chiara visione ideale. Prima, nella tua domanda, c'era anche un riferimento all'assenza di un rappresentante del Consiglio regionale. Quindi, sono metti importanti rappresentare Ischia sul territorio della sua terraferma è una cosa essenziale, ma non va bene se non accompagnato da oggetti concreti. Cioè, l'obiettivo della politica è quello di servire, è quello di portare a terra i risultati dei cittadini. I politici vengono pagati per soddisfare insomma la popolazione. Anzi, chi dovrebbe fare il politico dovrebbe fare l'onorabilità per cose diverse da una carriera politica, cose diverse da uno stipendio che forse in alcuni casi molti politici non riuscirebbero ad ottenere per una vita professionale. Quindi, è questo il binomio e caratterizzazione che hanno i giovani entusiasma, pragmatismo e c'è la missione di cosa si vuole fare. Domanda scontata e forse stupida, però la faccio semplicemente perché immagino che in qualche modo il vostro cono di luce si rivolga più o meno ai vostri coetanei. spesso leggendo, seguendo le televisioni in qualche modo seguendo il dibattito si dice i giovani non sono attratti dalla politica oppure i giovani sono distanti oppure i giovani inseguono altre chimere. Voi siete due ragazzi giovanissimi 24 e 22 24 e 22 quindi voglio dire proprio giovani 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 e c'è veramente spazio per i giovani? dovete conquistarlo state lottando oppure vedendovi soltanto giovani magari qualcuno pensa vabbè cavalchiamo il volto giovane cavalchiamo la giovane età per poter svecchiarci in qualche modo e correte poi il rischio di diventare delle pedine sulla scacchiera diciamo è una domanda un po' più cattivella ma nel senso la domanda che vi faccio voi vi siete occupati di politica magari ecco nella condizione in cui viviamo nella società in cui viviamo forse se cominciamo ad avere più giovani che si occupano di politica intesa come una cosa pubblica e cominciamo forse ad arrivare ecco al cambio giusto aggiungo soltanto una piccola nota è vero quello che diceva Andrea il comune di Scherpiano di Turismo non si sono coinvolti tuttavia ti devo dire da chi guarda che poi magari mettere insieme sei teste su un argomento così complicato diventa un'utopia se no non una chimera allora prendiamoci chi ha colto la palla al balzo e ha fatto diciamo la costo costo come si dice nel palla a canistro da sole andato a fare canistro c'è spazio per i giovani realmente? parte della risposta che sto per dare è stata detta da me nella prima risposta alla tua prima domanda azione è che il partito più rappresentativo di il suo se si vedono i risultati elettorali nel 2022 era il secondo dopo era il primo e poi c'era il fratelli d'Italia per cento anni importanti hanno distribuito nella difesa dentro il nazionale e perché ciò cambia? sì i giovani sono inizialmente mesi interessati dalla politica ma che tipo di politica? con la mia ultima 30 anni è stata presente in tutti i territori nazionali l'idea di azione tra le politiche è molto diversa vedere i giovani qualcosa che appunto non va messo nel macquare non va utilizzato per giovanire una qualsiasi politica mai fossilizzata va a unirsi in campo e a fare politica e noi vogliamo prenderci responsabilità noi vogliamo dare il nostro contributo e certamente avere un'ambizione che le organizzassi un comportamento di più lo spazio politico aspettare che ci veniva concesso da altre cose questa non è politica questo è altro in buona fede magari che ci sia spazio per i giovani ed è non solo uno spazio da conquistare o da occupare ma uno spazio che fisiologicamente si sta liberando per delle ragioni funzionali che non abbiamo visto nel contesto locale con la frana della fine del 2022 ci sono scanni politici che non funzionano che non hanno dato frutti che sono sanisteri e sono gli stessi amministratori che hanno avuto esperienza politica che si è reso conto di questo i cittadini se ne sono reso conto e mi interesse nei confronti molto interesse nei confronti di iniziative giovanili perché ci si è reso conto che quegli schemi sono non fruttiferi sul piano culturale esattamente esattamente poi una domanda c'era qual è la politica tra i giovani la vera politica la politica demologicamente Calenda lo ripete sempre l'arte di governo la politica ha in sé una visione architettonica che cosa fa il politico si è occupato della cosa pubblica cosa è la cosa pubblica è lo spazio in cui tutti noi sviluppiamo la nostra personalità in cui tutti noi cresciamo come uomini come cittadini come imprenditori come professionisti se le cose negli ultimi tempi non hanno funzionato è perché i responsabili dell'architettura pubblica non si è occupati di questo non ha creato le condizioni per far sì che tutti possano dare il loro contributo e quindi sì bisogna ridisegnare in un modo di struttura politica partitica amministrativa sono tantissime le persone che potremmo qui parlare core però certamente non è solo una questione di individui ma è anche una questione di che idea si ha di politica e come quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare per occuparci della cosa pubblica i giovani hanno queste idee di politica sono i primi a interessarsi perché la politica è scoperta di futuro i giovani sono di futuro quindi c'è una normale cioè spontaneo spontaneo interesse di occuparsi del proprio avvenire quindi nella giusta politica i giovani sono interessati domanda finale veniamo all'appuntamento dell'8 e 9 luglio che è cruciale sicuramente per tutto quali sono le vostre sensazioni che vi vedete un po' all'interno del partito sicuramente vi condivideranno sondaggi seguitemi informate quindi qual è la prospettiva di azione a quello che è il banco di prova importante delle elezioni europee azione fin a dura si è sempre candidata alle varie elezioni se non nel caso si vuole di Roma in cui la lista avendo si rende molto bene sempre in coalizione con altri partiti quindi le elezioni europee del 6-9 giugno saranno un banco di prova in cui azione del sistema di unicentri sull'Italia però sono elezioni di opinione sono elezioni in cui i giovani sono molto sentiti da giovani e dalla base imprenditoriale quindi siamo molto fiduciosi che tutta le elezioni del 6-9 giugno sia positivo per noi non vogliamo dire numeri non sappiamo precisamente cosa accadrà però pensiamo di superare azioni sbarane in dobbiamo di sacco siamo quasi abbastanza sicuri tranquilli di superarla poi non si sa qual è la percentuale che si prenderà anche perché bisogna vedere un po' come le liste verranno presentate in modo l'intenzione è quella di organizzare un gruppo da quanto sembra comunque più comprensivo possibile anche su basi europeiste necessarie direttamente per quello che concerne il contesto storico contesto in cui anche noi come soprattutto penso come giovani siamo divati a riflettere quella che è la proiezione europea in un mondo geopoliticamente sempre più complesso a cui bisogna necessariamente rivolgere uno sguardo proattivo sarete campagna elettorale come siamo abituati diciamo noi un po' più boomer un po' più anziani con izzi piazzi oppure pensate proprio in finale di questa intervista di portare avanti ecco una campagna elettorale più basata sui social o cosa avete già idea se c'è c'è un'idea magari potrebbe anche darsi che la state ancora costruendo e quindi non spoileriamo nulla sì la stiamo ancora costruendo ma pensiamo che la chiave sia mettere insieme il metodo di fare politica che c'è sempre stato le comizie della piazza con l'attività social ormai viviamo contestualmente nella metafisica e nella vita online viviamo on life quindi è bene che la politica sia presente in entrambi i campi del gioco e forse l'unica nota è che vorremmo provare a non fare solo rumore vorremmo provare a fare azione a portare un contenuto ci spegniamo in questo un contenuto che poi partirà da questi eventi che sicuramente lancieremo nelle prossime settimane di ragionamento su cose in Europa con il futuro dell'Europa e perché queste elezioni sono molto importanti per il nostro paese e per il nostro territorio grazie a tutti grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti